Il corso è appena finito, è stato fantastico, ci siamo divertiti un mondo, i ragazzi sono stati stupendi, un'esperienza fantastica. Improviso è un concepto complexo, non solo è filling in un'empatia con mille nodi, ma bisogna trovare una balanza, una balanza tra il contenente che vogliamo expressare e il formo che vogliamo expressare, e abbiamo bisogno di ascoltare a noi, per capire il modo in cui possiamo expressare questo, e per ascoltare a l'altro, perché l'improviso è anche comunicazione e dialogo. E, finalmente, abbiamo bisogno di una balanza tra il racionale e l'istintiva, perché abbiamo bisogno di un'improviso, ma anche di un'improviso di un'emotione. Per dare questa possibilità a tutti gli studenti, abbiamo pensato che è buono di lasciare le loro attività, e abbiamo chiuso di un'improviso, come la comune dell'arte, e anche fencing, ma anche rethoric, painting, dancing, singing, e il style della renaissance, cantare al libro, contrapunto alla mente. E tutto ciò si è guardato dal punto di vista della psicologia, perché uno dei grandi passaggi per risolvere, soprattutto al principio, è l'improviso dell'improviso. È stata una bellissima esperienza, perché abbiamo giocato con le maschere prima, e poi maschere e i violini, poi i violini tra di loro. Era un problema di espressività, di cercare di far capire ai musicisti che, oltre all'improvisazione, c'è anche bisogno di espressività facciale, fisica, per far passare un'idea, un concetto. Non voglio, perché? Beh, ma penso che io sono in love con voi. Io ancora un buore. Io ancora un forte. Mi piace così. Eh? oh no! 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 è troppo, è troppo. Go back and see. 10 carati. 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 We have a method based on historical references on one side and on the other side on the è la possibilità che vogliamo offrire a tutti, per aver guardato a loro, e trovare un modo di approcciare il processo creativo, che può essere fatto solo in l'emity spazio. Questo è quello che bisogna un equilibrio tra la parte del racionale e l'emotione. E per farlo il medo dell'emity spazio, il metodo è organizato per fare un piccolo step in rhythm, melodia e armonia, con la principale proposta di train in uno che può essere considerato la chiamata del corso. È un buon taste. Il nostro lavoro è bello! Abbiamo tre ore con questi ragazzi questa mattina, e è stato un grande divertimento, un grande honore per noi di insegnare in questo corso. Abbiamo parlato di profondità di sentenza in connessione con l'improvisazione, che è sempre molto importante, perché quando improvise non si è solo solo a teceli. Tu ascolti a teceli, tu ascolti a teceli, tu ascolti a teceli, tu ascolti a le parti che hai dentro di teceli, ma anche la room, le persone, la audience. E, based su questo, guardate le noti e improvise e preparate un salato di tutto questo! Quindi tu dovresti essere potenti e essere open allo che c'è nel momento. Presenza, attunione e resonanza! Questi sono le parole principali di questa mattina. Questi sono le parole principali di questa mattina. 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 D'accordo. grazie I found it allowed me to let down my walls quite a bit and do things that were outside of my box Kurs był super, miałam naprawdę bardzo fajny czas, zwłaszcza lekcje szermierki były naprawdę fajne Zreagił również kurs improwizacji wieczorami, bardzo polecam Kursi This was such a fantastic learning experience, it was such a good opportunity to try out new things and make lots of mistakes, and get lost along the way, and then come back I wish I had been taught in such an imaginative creative way when I was learning music I think they're doing a fabulous job of making alive a music that somehow is both contemporary and historical So, if I wanted to, why? You What are you? You 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 Grazie a tutti.